13.09 e 13 secondi 13.09 e 13 secondi la croce è ingestita la croce è ingestita e anche la base della croce è superato già la croce è ingestita la croce è ingestita la croce è ingestita la croce è ingestita si sta riducendo 13.09 e 58 e mezzo scusate 13.10 e 58 e mezzo è l'uscita quindi 13.10 mette il pinnacolo